ola a tutti sono natron e benvenuti in un nuovo video di attack of the b team oh finalmente riprendiamo anche il minecraft quindi a giocare registrare al nostro caro amato minecraft a questa bellissima mod si telefono cosa vuoi nulla perfetto io ho fatto qualche piccolissimo cambiamento ora vi elenco allora tanto per cominciare questa maledetta meccanista workbench da quel che ho capito non serve ad un cazzo cioè per meglio dire serve a memorizzare diciamo le ricette se per esempio io non mi ricordo una particolare ricetta la posso memorizzare su un foglio poi metto il foglio qua e mi aprirà qua magicamente gli oggetti che servono e la predisposizione una cosa a mio avviso praticamente inutile visto che abbiamo visto che abbiamo questo praticamente vado qua e mappare la ricerca la ricetta come fare l'oggetto a me interessato con tanto di tasto per la ricerca quindi a mio avviso questo è perfettamente inutile poi 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 qua ho messo altre due casse una con insieme le piante eccole qua e qua invece oggetti di vario tipo e quindi abbiamo libri di stick la pelle i cartelli e ho fatto anche questo bellissimo zaino che ora vi faccio vedere che però è strano rispetto a quello dell'exit quello dell'exit era un pochino più più comodo cioè si mette praticamente come un normalissimo zaino qua potete vedere la meravigliosa Lara Croft con l'originale zaino cioè guardatela lei è proprio lei con lo zaino suo e quello originale di Lara ha risolvato finalmente la sua la sua voglia di avventura però non si apre se lo tengo in mano no praticamente lo devo posizionare poi lo apro il fatto è che se lo rompo e lo riprendo in mano riprendo anche in mano cioè quindi nell'inventario tutti gli oggetti al suo interno quindi non ho ancora ben chiaro come caspiti funzioni però lo andrò sicuramente a scoprire poi 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 qua ho messo il pressur plate appunto per pressur plate per facilitarmi l'uscita dalla fortezza qua abbiamo il letto non sembra che di averlo fatto l'altra volta non mi ricordo più dio e qua poi ho cominciato a scavare perché ora vi faccio vedere cosa voglio fare e oggi lavoreremo proprio qua sotto cosa voglio fare qua allora qua voglio fare delle stanze per diciamo per i workbench quelli principali quindi in uno metterò il classico workbench con il legno con lo storage cioè con il magazzino in uno quello della terminal expansion in un altro workbench ancora eccetera 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 allora qua metteremo il workbench di base quindi workbench fornace e tutto quanto poi di qua volevo romperlo si oro cosa ho trovato oro che ora va allevato per forza eh l'oro va allevato per forza quindi vieni qua oro ehm che poi se ne trova una marea cioè di questi materiali veramente eh non è che di ce ne trovi uno due tre tre blocchi così proprio buttate random no ne trovi una marea veramente è impressionante ed ecco perché volevo fare almeno inizialmente eh uno storage veramente gigantesco veramente enorme eh tutto ben organizzato in modo da eh avere tutto sotto controllo qua adesso faccio appunto come ho già detto prima ehm questi workbench che sono praticamente i workbench dei vari sì workbench i storage i magazzini non workbench idiotate non sono altro volevo dire eh fare appunto i vari storage dei vari workbench e solo gli storage che sono adatti a quei workbench là eh lo storage generale poi sicuramente lo farò magari in un'altra posizione ehm di sicuro eh ma di sicuro ehm però io volevo rompere qua anche eh vabbè vabbè quelli quelli stanno là dove devono stare ok quindi facciamo questo pietra rossa così a random vabbè e noi la prendiamo eh noi la prendiamo la pietra rossa l'altro c'è una marea di pietra rossa come come qualsiasi materiale o minerale che si trova in questa mod di pietra rossa ce n'è veramente una marea no oh yes immaginavo tanto a me pietra rossa vieni a me pietra rossa ti voglio tutta per me guardate quanto ce n'è ma è impressionante la quantità di materiale che 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 ha questa questa mod ehm così fa un po' schifo sinceramente con con questi ma infatti ora li prendo perché ah ma tanto qua devo chiudere io cioè devo fare così tro lo lo tu vieni con me tanto tanto come ce n'è qua tanti materiali ragazzi ce n'è tantissimi qua 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 è pieno è strapieno di materiale è una cosa veramente impressionante quindi come li trovo qui li trovo anche altrove e penso come stanza più o meno basti come grandezza come maledetta pietra rossa maledetta pietra rossa ehm guardate quanto ce n'è è pieno cioè basta basta un altro non raccogliere pietra rossa perché veramente non non sai più dove metterla se no basta basta questa smagna di raccogliere qualsiasi cosa tu tu veda qualsiasi materiale tu tu vedi basta e vabbè ovviamente almeno quelle che sporgono dalla da qua perché sono un po brutti secondo me voglio una una cosa tipo questi voglio una cosa pulita e quindi faccio praticamente queste quattro stanze in modo da avere diciamo una base per tutte le ricette di crafting cioè per averle diciamo più che altro tutte vicine diciamo diciamolo così per averle praticamente tutte quante vicine poi farò sicuramente altri magazzini quando mi avanzeranno tantissime tantissime robe farò anche un magazzino più grande un pochino più di spazio eccetera 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 faremo tutto quanto ragazzi delle mod le ho viste come vedete le sto continuando a vedere è solo veramente una più bella dell'altra cioè la la c'è la mod della archimedes ship che praticamente ci permette pensate un po di poter pilotare una nave un'aeronave cioè una cosa fantastica cioè meravigliosa c'è pilotare una nave un'aeronave in che senso nel senso che noi mettendo i blocchi a caso praticamente come vogliamo noi ci piazziamo un blocco speciale della moda appunto e che ci permette di pilotare la nave pilotare quindi farla andare o se non è una nave normale in mare giustamente oppure di attaccare degli air balloon cioè dei palloni aerostatici e con questi palloni aerostatici noi possiamo volare volare ovviamente alla velocità di una mongolfiera non vi aspettate chissà cosa ma è una cosa fighissima una cosa meravigliosa però però c'è un però maledetto lo zepampurio qual è il però ragazzi il però è che purtroppo non possiamo si intanto rompo qua perché non mi piace avere metà terra e metà e metà roccia sinceramente però c'è un però non possiamo fare una nave della grande se che vogliamo purtroppo ragazzi è così purtroppo dobbiamo tenere abbiamo un limite di blocchi che possiamo fare quindi il mio progetto della dell'astronave enterprise che volevo fare tutta bella enorme gigantesca con tanto di tutte le stanze le camere interne non non sarà possibile maledetto lo se lo zepampurio e comunque non 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 si può non si può peccato peccato veramente perché perché sì che avevo già pensato appunto di fare una una sorta di enterprise alla star trek veramente meravigliosa e e no no e vabbè vabbè purtroppo però è già tanto poi è già tanto ragazzi che possiamo veramente che possiamo veramente no cosa sta fanno cosa cavolo stai fanno natron stai sbagliando praticamente tutto allora questo deve essere libero sì ok devo rompere qua questi tre però poi gli altri non sono tutte una più bella dell'altra tipo quello dello zaino che ancora non ho capito come funziona ma lo capirò è della better storage quindi tipo qua della better storage c'è una marea di no cosa sto fanno una marea tipo di 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 roba come potete vedere tutte le casse speciali le cose cioè sono meravigliose la bibliocraft c'è la giselle uh 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 a voglia ragazzi qua come a poter fare robe a random l'unica ecco questa è la piccola parentesi questo appunto è la lo storage della cosa che farei anche subito ragazzi intanto che si chiacchiera si parla un po' di cose a random e di robe varie stavo dicendo quindi l'unica mod che ancora ragazzi non ho capito come caspita funziona e a cosa serve esattamente è la witchery sì la witchery è veramente una mod che non ho non ho ben capito a cosa serva non ho nemmeno il legno fantastico fantastico bisogna andare a raccogliere il legno l'ascia che è anche già consumata meravigliosa bellissima e cioè merda è notte cioè non ho ancora ben chiaro che diavolo serve la witchery ho visto che è possibile fare un altare per incanare del potere per farci robe non lo so per fare pozioni o fare tipo bamboline voodoo che servono per fare altre robe non ho ben chiaro qui intanto ho provato a scavare c'è anche una caverna ma così quasi lo tappo perché non non mi piace avere questo buco davanti a casa appena esco sinceramente quindi lo lo tappiamo eccolo qua e andiamo a prendere altra legna ah ok pensavo che c'era l'altri capitator mi ricordavo male comunque la witchery non ho ben capito a che diavolo serve ragazzi se devo essere proprio proprio sincero cioè boh forse per fare pozioni varie o cose voodoo non lo so non me lo chiedete boh vabbè si vedrà poi di farla in qualche... questo è alto questo albero però dai si vedrà un po' di... di farlo... si va bene no lo devo prendere tutto basta lo devo prendere tutto si vedrà un po' di... oh finalmente... si vedrà un po' di farlo poi... cioè vedrò un po' perché intanto non credo che sia una... una moda in cui mi ci metterò perché non riesco a capire il suo... il suo utilizzo ecco diciamo chiaramente... diciamolo chiaramente... no devo trasformare tutti così... dunque devo andare di sotto a fare... si tanto la workbench posso anche farla così penso... proviamo a scrivere... workbench non c'è nulla che si chiama workbench peccato... allora workbench vediamo un po' no... forse crafting table non lo so... craft... ooooooh guardate che bellissime sono meravigliose... Crafting station, come si fa? Allora, questo... Ok, questo posso farlo. No, i pistoni non... I pistoni posso farlo. Una storage... No, cos'è? No, ragazzi, la voglio fare. Allora, voglio farla, quindi... Fanculo, le zone di sotto, voglio immediatamente fare questa figata assurda. Allora, mi serve uno stone bricks, o anche... Stone bricks, come si fa? Con la stone. E la stone, ovviamente, bisogna metterla a cuocere il coso, ok? Quindi, ci serve. Innanzitutto, ci serve... Questo. No, è di qua a natron, dove vai? Eccoli qua i koal. Poi mettiamo a fare un po' di... Ah, ci servono quattro, quindi... Ce ne servono due. Quindi, ne mettiamo... Oddio, è la matematica. Basta. Ma no! Cosa stai fanno? Stone bricks? No! Aiuto! No, 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 no... Non me ne fa vedere... Oh, eccole qua. Allora, due stone bricks. Due stone bricks servono quattro stone, ok? Quindi, mettiamone quattro. E poi mettiamoci uno di questi. Poi, i piston. I piston... Posso farlo. Serve il 3 di regno, un ferro e un lingot. E la cobblestone che già ce l'ha. Quindi andiamo a prendere le ricette, ragazzi. Comunque, spero che sia una figata quella cosa. Spero che sia una figata veramente, perché... Ah, no, ce l'ho già, ok, perfetto. Allora, mi mancano il legno che ho già. Mi manca l'iron. Che ne ho tanti. Oh, facciamo un po' di robe, ragazzi, perché voglio un po' di craftare tantissimo. Allora, i pistoni. Due pistoni, no? Servono, sì, ok. Allora, quindi legno. Quindi, dunque, vediamo se me lo ricordo. Legno. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Poi, due qua. Due di redstone qua. E poi la cobblestone qua. Ah, e il pistone due, ovviamente. Che sono anche inviabili, pensate un po'. Quindi, una parte della ricetta ce l'abbiamo. Uh, che bello. Devo anche piantare quello, poi. Poi, poi, poi. Questa come si fa? Quattro stick e quattro pezzi di legno. Li stichi, io li faccio semplicemente così. Non ho voglia di andarli a raccattare. Quindi facciamo. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. La storage. La storage crate. Bellissima. Sarebbe praticamente una di quelle enormi casse dove la gente ci butta dentro robe per, appunto, come il magazzino. Ecco, lo utilizzano semplicemente come il magazzino. Ah, questi con due gold ingot. E lo facciamo subito, però, mister... No, ce l'ho il gold ore, però devo andarlo ad smeltare. Ah, intanto... Questo bisogna farlo no. No. Cazzo, però non mi ricordo le cose. Ok, ah, quattro di stone. Ne facciamo quattro stone bricks. Quattro stone bricks. Quindi, basta mettere così, praticamente, da quel che ho capito. Ok. Bon, questo è pronto. Quindi abbiamo tutti i materiali. Wood planks, wood planks. Direi di sì. Facciamolo. Oh, facciamolo, facciamolo, facciamolo. Allora, abbiamo detto uno qua, uno qua. E non mi ricordo più. Allora. Ah no, devo fare sempre... Già, che stupido. Devo fare questo. Quindi, uno qua. Uno qua, uno qua. E poi, non mi ricordo più. Ah. Quindi. Mi serve anche questa. Poi, quindi, abbiamo detto una qui, una qua. Due legni là. Quindi, uno e due. E nel mezzo che ci va... Cioè, hai i lati. Ah, hai i piston, so che è giusto. Perfetto. Eccola! La crafting station! Che... Che cos'è? Voglio andarla subito a posizionare perché... Deve essere una figata assurda, ragazzi. Veramente deve essere una... Una figata veramente assurda. Non sto più nella pelle, veramente. Magari è una stronzata, allucinante. Molto probabile. Io la metterei... Qui... 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 Che figata! No, che cos'è? Ah! Cioè, non mi dire che... Che... Devo provare a fare una cosa. Non mi dire che è tipo automatizzata la cosa. No. Ma è bellissima! Cioè, praticamente io... Metto le cose... Per farle... E quindi, praticamente, io le vedo... Quindi, praticamente, vedo l'alaga... Quindi, praticamente, io ho tipo... Più l'inventario, ma è meraviglioso! È bellissima sta cosa! Ehm... Contento! Sono contento, veramente! Sono veramente... Sono veramente... Felicissimo! Come un... Un idiota! Un bambino, veramente! Perché è meravigliosa! È una cosa... Stupenda! Stupenda, veramente! Allora, io direi di mettere subito in funzione. Allora, mettiamo tutta sta robaccia qua. Io so che abbiamo la possibilità, così sfruttiamo subito. Ci liberiamo un po' di oggetti. Allora, intanto per fare le fornaci... Eh, no, vieni qua! Io, però... Mmm... 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 Io questa la sposterei. Io questa la sposterei perché... 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 Che cosa... No! No! No, non me lo dire! Cioè, si rompe? Ma porca puttana! Accidente! Allo Zefampulio di merda! Schifoso! Lui è quel giornaccio! Ah! Ma non ci posso credere! No! Vabbè! Baffanculo, Zefampulio! Baffanculo! Ora mi tocca anche rifarla! Che palle!